Chiara Roti, 25 anni di fondazione per dire cosa? 25 anni di senso, quindi è il nostro significato dei 25 anni. La prima cosa che direi è grazie a tutti i donatori, a tutti i volontari e le famiglie nostre ospiti e in particolare al più grande nostro donatore e sostenitore che è McDonald's per averci accompagnato in questo cammino che dura da 25 anni ma va verso i prossimi 25. Ricordiamo cosa fate a sostegno delle famiglie che hanno un familiare malato? Sì, la nostra fondazione si occupa di accoglienza pediatrica, noi accogliamo famiglie con bambini in cura che sono costretti a muoversi dalla propria residenza, dalla propria casa per andare in cerca delle migliori cure nei maggiori ospedali pediatrici del nostro paese o negli ospedali generali con un'alta specialità pediatrica. Quando queste famiglie si muovono, la mamma e il papà, a volte i fratellini hanno bisogno di un'accoglienza e di un alloggio ed ecco che noi interveniamo in partenariato con gli ospedali amici, noi rispondiamo al bisogno primario di un luogo dove stare. Ma le nostre nove case che abbiamo in tutto il paese non sono solo un luogo ma sono uno strumento per attivare quello che è il Family Center Care, ovvero la cura basata sulla famiglia, anche sulla famiglia, che diventa un attore fondamentale per il successo della cura del bambino stesso. Quindi la casa è uno strumento per attivare un processo di accoglienza, cura, conforto e sostegno, in particolare la mamma che è la principale caregiver. Può darci qualche numero su questi 25 anni di famiglie e bambini accolti? Sì, i numeri sono giganti, sono oltre 50.000 le famiglie che abbiamo accolto in questi 25 anni. Ogni anno sono 2.000 nelle nostre nuove strutture. Ma questo numero è un piccolo numero rispetto al bisogno nazionale. Voi pensate che ogni anno sono circa tra gli 80.000 e 90.000 le famiglie che si muovono dalle regioni in particolare del sud verso il nord per cercare le cure. Certamente la regione Veneto, dove ci troviamo, così come la Lombardia, che è nostra vicina, l'Emilia-Romagna, sono delle regioni che ricevono e quindi sono delle regioni che danno una risposta alla migrazione sanitaria, che è il tema.